ciao a tutti oggi siamo qua a provare la osmo action 3 questa giornata assai ventosa vediamo un po cosa viene fuori così facciamo una comparativa con la gopro 4k 50 fps con la stabilizzazione rock steady o non mi ricordo come si chiama così testiamo anche la qualità dell'audio visto che oggi è una giornata ventosa bene eccoci qua adesso a provare la gopro sempre stesse impostazioni 50 fps 4k stabilizzazione quella base quindi la minima siamo qua oggi in una giornata ventosa come stavo dicendo prima in questo modo possiamo provare anche l'audio vediamo come rende vediamo un po le differenze con la osmo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti